5, 4, 3, 2, 1, vai, 100 condosso e a cartello rovescio, accenno destro pieno, 20 sinistra 4, ripeto sinistra 4, 10 sinistra 3 meno sporco, sporco va, subito testa 4 meno diventa testa 2 viscita, ripeto 2 viscita qua, 20 destri, tornante sinistro viscito, ripeto tornante sinistro viscito, 150 sinistri, attenzione tornante destra non si vede, ripeto attenzione tornante destra non si vede, accenno destro pieno, per accenno sinistro, subito testa 3 meno 2 volte, ripeto 3 meno 2 volte, 1 e 2, in, si sta 3, tieni lunga sconnessa, 40 sconnessi connessi, e testa 4 meno sconnessi, 30 destri, e tornante sinistro viscito, ripeto tornante sinistro viscito, subito testa 4 sporco, ripeto testa 4 sporco, 50 al muretto si sta 3 meno gira, e subito testa 3 lunga app e sporca, ripeto sporca, 150 ai pili sinistra 4, ripeto ai pili sinistra 4, 20, accenno destro pieno in sinistra 4, e al cartello destra 4 meno, subito sinistra 3, ripeto sinistra 3, 10, tornante destro apre, 300 pieni, e prima delle sebre stacca per sinistra 3 sul ponte, ripeto, prima delle sebre stacca per sinistra 3 sul ponte, sinistra 3 qua, e sul ponte destra 3 sporco, ripeto destra 3 poco sporco eh, 40, accenno slisto pieno, 100 con salto, e attenzione alla sebra, accenno destro viscito, ripeto accenno destro viscito, 150, al secondo cartello sinistra 5 e sale, ripeto 5 e sale, 100 sale, e alle piatte secche sinistra 3, tieni lunga, ripeto sinistra 3 lunga, tienela tutta è lunga sta via, tienela, e subito destra 4, e 100 destri, e sinistra 3 meno meno, ripeto sinistra 3 meno meno eh, meno meno questa, subito accenno destro pieno, 20, ai pini, destra 2 meno, gira e quelle butta fuori eh, piano qua, gira, gira ancora eh, gira ancora, e subito si sta 4 meno, in accenno destro pieno, accenno sinistra 4 meno, 20, ai pini, destra 3, e subito sinistra 3 più, 20 alla netta e destra 4, 20 alla casa, sinistra 4 due volte, ripeto due volte eh, una e due qua, 30 destri, sinistra 3 meno, ripeto sinistra 3 meno eh, e subito destra 3, ripeto 3, 20 sistri, in accenno destro, sporco, subito sinistra 3 meno, subito sinistra 3 meno, subito destra 3, lunga gira, 3 lunga gira questa eh, gira ancora eh, in accenno destro pieno, subito destra 5 lunga, 10, sinistra 3 meno, sporca, ripeto sporco sinistra 3 meno eh, 10, destra 3 tieni, ripeto destra 3 tieni, 20 destri, in accenno sinistra pieno, 30 assisti, in accenno destro pieno, 10, accenno sinistra, subito tornante, adesso sale, occhi e tornanti eh, piano qui, 10, accenno destro pieno, subito, accenno sinistra, senta qui lo 10, tornate sinistra, sale viscido, tornate sinistra, sale viscido eh, subito alla calza destra 3, 80 destri, a cartello sinistra 3, si entra nel viscido eh, sinistra 3, 40 destri sconnessi, in accenno sinistra sconnesso, 30 sconnessi, accenno destro, subito sinistra 3 meno, complessione, complessione qua, subito testa 3 e subito sinistra 4, 30 dosati, in sinistra 2, ripeto, sinistra 2 e subito stai largo, tornante destro, tornante destro, in accenno sinistro, subito destra 3 meno lunga, viscida, viscido 3 meno lungo, in sinistra 2, viscido tutto eh, 2, 2, in destra 4, diventa destra 3, diventa destra 3 qua, e subito sinistra 3, 20 sconnessi, a lei destra 2, ripeto 2, 20 destri, stai largo, tornante sinistro, ripeto, tornante sinistro, siamo quasi di fondo, 20, tornante destro, ripeto, tornante destro, 20 destri, tornante sinistro, fine eh, fine eh, qua fine, passa il rosso, basta, bravo Miche.